Giovedì 20 settembre, incominciamo subito con 400 metri di corsa, 20 metri di back roll, 15 kettlebell swing, il tutto ripetuto per due volte. A seguire andiamo a fare subito la forza, oggi finalmente un po' di sana forza, un po' di sana panca, bench press, faremo 3x8 seguiti da dei bent over row, anche in questo caso 3x8. E what di oggi? Semplicissimo, 15, 12, 9, 6, 3 ripetizioni di Straight Deep, Straight Pull Up e Calories Solo Skierg. Divertetevi, ci vediamo domani, buon WOD!